3, 2, 1, vai, 70, piega sinistra, destra 4, in sinistra 2, viscita sale, ripeto, destra 4, in sinistra 2, viscita sale, 30, piega destra, piega sinistra, destra 3, in sinistra 2, sporca interno, scende, in piega sinistra, in destra 3, sale, attenzione sporca qua interno, dosso 30, piega sinistra, doppio dosso, e attenzione sinistra 2, meno molto sporca, attenzione qua, scende, sinistra 3, in sinistra 2, in sinistra 2, dosso, in piega destra, tieni sinistra, destra 3, in sinistra 3, lunga, 50, tieni sinistra, destra 2, scende, per sinistra 3, e la staccionata, destra, sinistra 2, destra 2, gira, non tagliare, 70, sinistra 2, chiude, piega destra, in sinistra 4, tossata, 50, destra 3, meno, e attenzione, attenzione, sinistra 2, sporca, chiude, 100, 100, tossati, destra 4, sale, attenzione, in cassa, sinistra 4, 50, dosso in destra 4, e attenzione, destra 2, in sinistra 2, apre, destra 2, piega sinistra, lunga, lunga, e agli alberi, tieni sinistra, destra 2, piega sinistra, piega destra, lunga, vai, 70, tieni destra, sinistra 3, meno, non tagliare, sinistra 3, meno, non tagliare, piega destra, in destra 3, lunga, attenzione, scivola, ripeto, destra 3, lunga, attenzione, scivola, piega sinistra, e agli alberi, sinistra 3, piega destra, in piega sinistra, e al palo, destra 3, ripeto, al palo, destra 3, in sinistra 3, in destra 3 in sinistra 3 in destra 3 vai 50 destra 4 lunga 50 sinistra 3 in sinistra 2 sinistra 3 in sinistra 2 50 e al muro sinistra 4 lunga condosso ripeto sinistra 4 lunga condosso e ancora 50 e all'RL destra 4 in destra 3 in sinistra 3 scivola sale ripeto in sinistra 3 scivola sale piega destra e al muro sinistra 3 lunga chiude in destra 3 b più sinistra 2 scende 30 destra 3 piega sinistra e attenzione attenzione destra 3 chiude 2 allo specchio ripeto 3 chiude 2 allo specchio in sinistra 2 viscido piega destra lunga lunga e attenzione destra 2 sale ripeto destra 2 sale in sinistra 2 allo specchio piega destra piega destra lunga piega destra lunga e al rail destra 4 ripeto al rail destra 4 200 immersione sinistra piega destra piega destra piega destra lunga e al palo destra 4 ripeto al palo destra 4 e attenzione al palo destra 3 lunga lunga gira in sinistra 2 ripeto in sinistra 2 in destra 3 lunga lunga sporca piega sinistra e attenzione attenzione sinistra 3 tossata gira in destra 2 lunga lunga sporco sinistra 4 lunga lunga scende destra 4 destra 4 dosso in piega sinistra in dosso al palo dosso in piega destra per sinistra 3 lunga dosso piega sinistra in destra 3 in sinistra 3 in destra 3 ripeto in destra 3 50 e alla cappelletta destra 2 piega sinistra in destra 4 non tagliare sinistra 4 meno gira e chiude in piega destra 50 e al muro tiene sinistra destra 2 scende e chiude in piega destra sinistra 4 in piega destra e al muro destra 4 per ancora destra 4 ripeto per ancora destra 4 e al muretto sinistra 3 chiude talla in destra 2 70 sconnessi e attenzione sinistra 2 in destra 3 apre dosso in piega sinistra e attenzione sporco acqua sinistra 3 attento qua beh alla casa destra 4 in sinistra 4 50 tieni destra sinistra destra sinistra 3 tossati 50 destra 5 in piega sinistra 100 destra 4 in sinistra 4 in ancora destra 4 sale e al muretto dosso in sinistra 4 50 attenzione attenzione allo specchio sinistra 2 in destra 3 gira in sinistra 3 30 e allo stop immersione destra 20 sinistra 4 tieni destra immersione sinistra gira dosso in piega destra lunga tieni sinistra destra 4 in sinistra 3 ripeto destra 4 in sinistra 3 e allo stop ancora destra 3 piega sinistra 50 piega sinistra e in destra 2 chiude ancora 50 e al cancello e al cancello destra 4 lunga salta e attenzione viscito sinistra 4 in destra 3 in sinistra 3 attento che viscito vabbè in sinistra 3 in destra 3 50 salta tieni destra immersione sinistra scende in sinistra 2 50 50 dosso destra 3 in sinistra 2 ritarda poco piega sinistra 100 100 shigan entra a destra attento qua 30 immersione destra in sinistra 4 sconnesso e attenzione attenzione tieni destra sinistra 3 in sinistra 3 gira in destra 2 chiude ripeto in destra 2 chiude per sinistra 3 in sinistra 2 chiude 50 sinistra 4 sale 100 guarda qua siamo a basciare ora sono fatte 49 sono fatte 29 29 29 28 stiamo là rugoso e russov quant'è? 9 29 4 9 29 4 4 9 29 9 29 4 9 29 4 9 29 4 9 29 4 Grazie.